Buongiorno da Meteo.it. Prima di allontanarsi definitivamente dall'Italia, la perturbazione numero 3 porterà ancora instabilità al sud, con conseguente calo delle temperature anche in queste zone. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime ore quando avremo piogge anche a carattere di rovescio, in particolare tra Calabria e Sicilia con nevicate sui rilievi intorno ai 1200 metri. Tempo buono sul resto dell'Italia con qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine. Attenzione al vento che si è rinforzato sulle Alpi occidentali e al maestrale che si fa sentire forte specialmente sulla Sardegna. La giornata di domani vedrà un miglioramento del tempo con ancora qualche pioggia tra Calabria e Sicilia e qualche fiocco di neve che si farà sentire sulle Alpi occidentali.